Mila mi ha profocato tutto il tempo, mi ha detto qualunque cosa. Mila ad un certo punto l'unica cosa che ho sentito è stata perché tu sei una manipolatrice e anche strumentalizzi tuo figlio e usi tuo figlio. E da lì Paola si è arrabbiata e sono arrivata fino alle mani. Il fatto di picchiarsi comunque non si può mai appoggiare, la violenza per me non è mai un mezzo. Mi sono alzato per dividere, l'ho portata via Paola, è arrivata anche Ristide. A una provocazione purtroppo, l'ho detto anche a Palo, non si può reagire in maniera aggressiva. Mi ne vado, vuoi farmi la valigia? Mi ne vado, se ti puoi pagare il finale, ma tu c***o ti voglio farmi! Non mi ne vado! Non voglio intricare perché se lo spacco tutti, non voglio intricare, guarda, non voglio intricare, ti prego, ok? Grazie! Grazie! Grazie a tutti.